Beppe Grillo contro il gasdotto nel Salento. Il leader dei 5 Stelle chiede che siano i cittadini a decidere con un referendum. Sonia Dottavio. In Puglia per manifestare contro il gasdotto transadriatico, Beppe Grillo rilancia anche in Salento la battaglia del Movimento 5 Stelle per i referendum propositivi. Deve essere il popolo a decidere, dice, anche sul gasdotto. Se per fare l'opera metteranno in campo l'esercito, avverte noi ci metteremo il nostro di esercito. Dura la polemica con il governatore Vendola e non manca l'attacco ai rappresentanti del governo che ieri erano a Baku in Arzevaigian dove parte il gasdotto Tappo, poi l'affondo a Renzi. Adesso questo qui è là a firmare a Baku il nome per conto del popolo italiano. Lui non mi rappresenta. Perché per firmare, per firmare il nome del popolo italiano, devi essere eletto dal popolo italiano. Dobbiamo andare subito al voto per riprenderci il paese in forma democratica, insiste Grillo. Io vi dico, conclude che siamo in grado di governare già da domani mattina. Grazie.